Buongiorno a tutti, oggi è il giorno Ho dimenticato tutto, questa è la poltrona che dovevo assolutamente farvi vedere Perché è la poltrona più morbida e bella del mondo, è una coccola unica, tu sei avvolto nella poltrona e lei gira pure E adesso mi gira tantissimo la testa ragazzi, giratemi dall'altra parte Così ritrovo la mia testa perché mi gira, ecco Quindi oggi è il giorno che lasciamo a San Diego i nostri amici Però vediamo Harry Potter quindi possiamo un po' resistere Però a me mancheranno gli amichetti È la casetta degli amichetti È la città degli amichetti Adesso andiamo a salutare Luca che sta lavorando Così facciamo la pausa e il pranzo insieme Poi affittiamo la macchina e andiamo via O viceversa O viceversa Quanta tristessa in un giorno solo Lui vuole fare l'ultima partita a ping pong Siamo tristi Allora andiamo da Subway Così ci scegliamo il panino del pranzo Che è fantastico perché ti scegli tutto Dal tipo di pane a cosa meglio Ci mettiamo in coda Ci scegli componenti Cosperi, tomatoes, black olives Ok, affittata l'altra macchina Questa da Richard Che è stato super gentilissimo Che ci ha dato una macchina Fra le più grandi e delle piccole In modo che la paghiamo piccola Ma è gigante Bella, bella, bella Ma abbiamo diventato amichetti Abbiamo lasciato i cicciottoni Sono un po' triste Però la macchina ti piace di tutte le macchina La macchina mi piace di più La Corolla bassa lunga Sì, è carino Però andiamo sempre in amico Metti qui, bella Non tanto doveva rifare In realtà stiamo andando a Venice Beach Perché oggi e domani mattina si visita Santa Monica Per poi spostarci a Los Angeles domani pomeriggio E vedere i vari Universal, Warner L'Osservatorio E soprattutto il tramonto dall'Osservatorio Che non l'abbiamo mai visto Perché l'altra volta ci abbiamo provato in ogni modo possibile Ma alla fine non ce l'abbiamo fatta Però in questo momento penso solo che mi mancano le piccate di cicciottoni Oh, mi mancano le amichette E anche l'America Anche se sono in America Ma qui è un'America diversa Mi mancherà iOP Mi mancherà la gente che ti dice Welcome Quando entri nei negozi e ti chiede What's up, how are you doing? Poi ti ringrazio e ti saluto Hey guys Non ci saranno più Mi mancherà la colazione da iOP O qualunque colazione Mi mancherà Hai già detto quattro volte che la colazione è d'aiuto Sì, mi mancherà la colazione Mi mancherà il Ross for Less Mi mancherà le casette americane Avere un pipong in garage che ci puoi giocare quando vuoi Ma tu ce l'hai in giardino? Sì, ma è diverso Mi mancherà tantissimo il frappuccino Devo prendere un frappuccino Mi mancherà della colazione, ho già parlato Ma? Le macchine grosse, gigantesche Qualcosa che si illumina sullo specchietto Sì, è possibile Credo sia un sensore di prossimità Sì, è quota, super attività E cosa devo fare? Niente, guardarmi Ciao, grazie Se sei solo intelligente Non devi fare niente Va bene Allora ci vediamo fra un po' E anche la macchina è grande Mi mancherà Ieri ho guidato un piccato Il piccato più grande che io abbia mai visto in tutta la mia vita E poi abbiamo fatto la ripresa dal drone E poi Luca ci ha fatto la ripresa dal drone mentre andavamo via Che sarà una cosa strappalacrime su cui piangerò per sempre Ma diciamocelo Chi quando saluta gli amici che se ne va ha una ripresa col drone? Cioè, abbiamo scelto degli amici Che dopo lo spacciano Perché stava finendo su un albero ma solo per un secondo E poi c'è un po' Buongiorno a tutti, allora siamo appena arrivati a Venice e siamo entrati nell'hotel, dobbiamo correre a spostare la macchina, ma devo assolutamente farvi vedere la camera perché è la più bella di sempre e addirittura ci ha spostati perché ha detto che c'era una stanza vicina a... ma è lui? Scusate, questo è quello che ci ha fatto fare il check-in. C'era una stanza libera vicino a quella di Fra e quindi ci ha dato quella vista oceano che in teoria non avevamo ed è stupendo perché praticamente è un appartamento, guardate che bello, cioè vabbè a parte il parquet, c'è il frigo, il microonde, il forno, la macchinetta del caffè, è il primo posto senza la moquette, un lavandino pazzesco, lavapiatti, lettone gigante, fantastico, super alto, che è morbidosissimo e la vista mare, cioè lì quella è la spiaggia. Soprattutto adesso c'è la ripesa, mentre diciamo che si vede la spiaggia uscita. Cioè esci e siamo sulla spiaggia, è bellissimo, tv, stereo, qualsiasi cosa. Andiamo se non ci guarda la macchina? Sì. Vi faccio vedere la vista dal corridovio del nostro hotel. Cioè siamo qui, è pazzesco, vi faccio vedere anche l'ascensore vecchio stile perché fa un po' paura, ma è bellissimo. Sì, lui l'ha definito originale. Allora, forza con tutta la potenza che hai. Deve metterci il piede davanti? No, perché mi stava mangiando un pezzo di carta. Ok. Eh scusate, questo è solo per il tutto parcheggio. Sì, vi facciano vedere la vista. Andiamo, andiamo, andiamo. Direttamente sull'oceano. Adesso, cioè basta. È bellissimo. Neanche allora siamo usciti ed è la cosa più americana che ci possa essere. Cioè, siamo in un posto veramente strano. Perché ci sono dalle persone normali che fanno la passeggiata o sport, bici, skate, a tutta una fila di quelle che sembravano bancarelle e in realtà sono tipo casupole dei barboni. È un contrasto assurdo. Eccolo, questo è il nostro hotel. Questo qua. Sì, è un micro... È un microcentro commerciale. Ce l'abbiamo fatta nello zainetto. Siamo a Santa Monica, finalmente. Allora, eravamo a Venice che ha un hotel bellissimo, la spiaggia stupenda, ma le persone erano un po'... Aiutatemi. Molto eccentriche e c'erano odori un po' troppo forti per me. Profumate di sostanze. Sì, profumate di sostanze non legali almeno in Italia. E no, veramente, c'era gente messa molto male ai bordi della strada che ti chiedi se supereranno la notte. Quindi abbiamo deciso di andare via. E adesso siamo a Santa Monica. Abbiamo trovato un parcheggio vicinissimo al Molo dove c'è appunto Luna Park che è sempre in tutti i film. E stiamo andando a vederlo. Fra l'altro è proprio a Santa Monica che io avevo preso due anni fa a Monico. Quindi praticamente sta tornando a casa. Ah, qui ci sono i gadget, quelli guardiamo. E niente, quindi siamo molto più contenti. Siamo a 5 minuti in macchina, quindi fantastico perché anche si fa un po' schifo di là. Qua è molto bello. E quindi ora andiamo verso il Luna Park. Ci guardiamo il tramonto sulla spiaggia. E poi andremo nella parte un po' più negoziosa dopo. 14 secondi. Noi giriamo così. Ci giocano per lavoro. E ci vuole. Mille volte meglio. Ci piace, ci piace, ci piace. C'è meno gente che fa ginnastica. Forse due anni fa eravamo venuti a un altro orario. No. È vero, è vero. Fra. Ciao. Decisamente. Non è un piccolo. No. Tolgo lo zoom. Come deve facerlo a Griffith? Pidanza! 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 Sì! Luna parcagnotanta! Luna parcagnotanta a noi! Ma così dire? Pidanza! 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 Sì! процесс. Cosa? E' bellissimo! Sembra di essere in un film agli 80 Come sale? Come sale? Come sale? Si Siamo venuti a fare un giretto in centro dopo aver visto il tramonto e aver visitato una parca anni 80 e andiamo un attimo alle Converse perchè devo prendere alla Converse Store per prenderne un paio di mamma e poi facciamo un giro in questa via bellissima che ha poca gente persone che suonano dal vivo locali e negozi molto carini quindi vediamo un po' cosa c'è e poi cerchiamo da mangiare perchè io sto letteralmente morendo di fame Abbiamo trovato il posto dove abbiamo comprato Monigo e stiamo per andare nel reparto degli Orsetti Sì si era qui era qui c'è la Ocli Siamo da Johnny Rockets per cena perchè abbiamo cercato tantissimo locale ma non abbiamo trovato niente allora alla fine abbiamo detto vabbè facciamo schifezza perchè non trovavamo alternative che poi è buonissimo ma va bene e noi abbiamo un serio serio moltissimo serio problema allora innanzitutto Fra ha fatto il regalo di compleanno che sarà a giugno a Edoardo prego e io col sole mostriamo il regalo di compleanno si si mette una tozza dell'iPhone e il cappello originale di Ritorno al Futuro e questa gli mancava che non è facile trovare una cosa di Ritorno al Futuro che ormai va bene guarda qui dopo di che e le tasche di pantaloni esatto dopo di che Edo ha ricambiato il regalo di compleanno che sarà sempre a giugno che sarà sempre a giugno quindi giochiamo in anticipo ma un po' prima regalando fra la bandiera con scritto esatto con scritto welcome to the dark side dopo di che e questo ultimo ma non meno importante qui c'entro io ci tengo a precisare che è lo stesso negozio dove abbiamo comprato Monico quindi anche il pallone è tutta sta roba qua si esatto questo è veramente bello è bellissimo è stupendo hamburger tra l'altro con la carne delle fattorie locali e anche le patatine c'è scritto che sono patate di non so quanto cioè c'è scritto i tempi in cui sono state prese e dove è una piccola manteca di calabino fai notare la sputacchiera per prendere i soldi in molto bisogno migliore grazie per dirgi c'è decendo Grazie a tutti.